Ciao ragazzi, bentrovati. In questo video parleremo un po' di quelli che sono stati gli effetti della riforma protestante nell'impero di Germania, ovvero in che modo la riforma religiosa avviata da Martin Luther, conosciuto in Italia come Martin Luther, a partire dal 1517, avrebbe creato una frattura all'interno del Sacro Romano Impero di Germania, appunto uno stato potentissimo nell'Europa a cavallo fra il Medioevo e la storia moderna e quali sono stati i motivi per cui questa riforma effettivamente ha avuto così tanto successo e una tale diffusione, tanto da arrivare a intaccare l'autorità del Papa, quindi della Chiesa di Roma, ma dello stesso imperatore di Germania. L'inizio della cosiddetta riforma protestante, ovvero di questa spaccatura all'interno del cristianesimo occidentale, quindi nel cuore dell'Europa, risale al 1517, l'anno in cui, secondo la tradizione, Martin Luther avrebbe affisso le cosiddette 95 tesi alla porta del castello di Wittenberg. Luther era un monaco agostiniano, era soprattutto un teologo, un docente di teologia, quindi una figura intellettuale molto importante, e nel 1517 pubblica queste tesi, queste affermazioni, contro la pratica delle indulgenze plenarie, quindi inizia una critica feroce nei confronti di alcuni atteggiamenti assunti dal clero della Chiesa di Roma, in particolare questa pratica delle indulgenze. Il 1517 quindi sarà un anno spartiacque perché da lì in poi inizierà un processo che, come vedremo, andrà estendendosi fino a far nascere proprio un nuovo ramo del cristianesimo, che si separerà rispetto a quello della Chiesa di Roma. Non era la prima volta che Lutero criticava la Chiesa di Roma e la pratica delle indulgenze, però nel 1517 questa affissione delle 95 tesi porta a un aumento della fama e dell'anche popolarità di Lutero, intanto nell'area della Sassonia e in generale in varie aree dell'impero di Germania. Perché? Perché la voce di Lutero, che era comunque un membro della Chiesa, era un monaco agostiniano, ecco questa voce in qualche modo rappresentava il malessere, il dissenso di tante persone, dai suoi studenti a semplici fedeli, ad addirittura alcuni aristocratici, che intanto non si riconoscevano in questo materialismo della Chiesa, in questo distacco fra gli ecclesiastici e l'aspetto spirituale, la religiosità del cristianesimo. In particolare molti principi nobili tedeschi vedevano comunque con diffidenza, con fastidio, con ostilità addirittura questa pratica delle indulgenze, proprio perché andavano intaccare i loro stessi interessi economici. C'era un giro d'affari dietro le indulgenze, gigantesco, che si stava facendo sempre più grande, e in particolare Lutero troverà da subito un potentissimo alleato politico in Federico III di Sassonia, detto Federico il Saggio, ovvero un principe dell'impero di Germania, che era una delle figure politiche di riferimento all'epoca di questi fatti. Il pontefice in quel periodo è Leone X, il papa che per l'appunto aveva incentivato la pratica delle indulgenze plenarie, proprio per accrescere le ricchezze della Chiesa e le entrate quindi dello Stato della Chiesa e dell'alto clero europeo. Ecco, Leone X, dopo aver magari all'inizio un po' sottovalutato queste proteste nate a Wittenberg e dintorni, si rende conto del pericolo che costituisce Lutero, del fatto che stia raccogliendo un seguito sempre più vasto. Quindi Lutero viene convocato a Roma, lui non si presenta perché teme giustamente di essere poi arrestato, e in qualche modo, anche se a distanza, attraverso il clero tedesco, Leone X punta comunque a far abbiurare Lutero. Lutero però in quegli anni non fa passi indietro, mansi al contrario, forte dell'appoggio di Federico di Sassonia, forte di una serie di seguaci che vedono aumentare sempre più il proprio numero, ecco, rincara la dose, possiamo dire. Le sue critiche diventano sempre più aspre e dalle indulgenze si spostano per colpire proprio tutto l'apparato della Chiesa. Lui arriverà a contestare l'infallibilità del Papa, addirittura in un documento definirà la sua lotta contro la Chiesa di Roma come una sorta di lotta contro l'anticristo, quindi arriverà a paragonare praticamente il Papa al diavolo, e cerca di esortare gli altri principi tedeschi, in generale i grandi dignitari dell'impero di Germania, a appoggiarlo in questo braccio di ferro contro la Chiesa di Roma, che Lutero identifica a questo punto come il vero grande nemico della religiosità e del cristianesimo. In questa lotta fra Lutero e la Chiesa di Roma si ritrova coinvolta una delle figure più importanti della storia del XVI secolo, ovvero Carlo d'Asburgo. Carlo era innanzitutto il giovane re di Spagna, con il titolo di Carlo I, era discendente dalla famiglia degli Asburgo, quindi era anche il signore dei domini degli Asburgo, praticamente una parte dell'attuale Austria, ma in più nel 1519 viene scelto come nuovo imperatore del Sacro Romano Impero, titolo che assumerà con il nome di Carlo V. Ricordate che l'impero di Germania era una sorta di federazione, cioè di stato, formando da tanti altri stati i vari principati tedeschi, e questi principi, questi vescovi, eleggevano un imperatore. L'imperatore di Germania era una carica appunto elettiva, non basata sul diritto dinastico, ma su un'elezione. Carlo V, con il consenso del papa di Leone X, quindi diventa imperatore, e una delle primissime emergenze che si trova ad affrontare è appunto questo dissidio a livello religioso, per cui lui convoca Lutero nel 1521 in occasione di una grande assemblea che veniva fatta tra l'imperatore e i suoi principi e i massimi esponenti, insomma, dell'impero, la cosiddetta dieta di Worms. L'intento di Carlo V con questa convocazione era far abbiurare Lutero, ovvero fargli rinnegare ciò che aveva sostenuto fino a quel momento. Il 16 aprile del 1521 Lutero arriva a Worms, arriva in questa assemblea alla presenza dell'imperatore, degli alti dignitari dell'impero e anche di alcuni delegati del papa, di alcuni rappresentanti quindi della chiesa di Roma, e nei giorni successivi appunto difenderà in realtà le proprie tesi, ribadirà le sue posizioni e questa sua critica molto forte nei confronti della chiesa, della sua organizzazione e del suo atteggiamento. A quel punto Carlo V condannerà Lutero, lo proclamerà un eretico, un nemico della cristianità tedesca, e lo bandirà dall'impero. Interviene Federico di Sassonia, il protettore di Lutero che simulerà un rapimento, in pratica per nascondere Lutero, che verrà portato in un castello del principio di Sassonia, e qui Lutero si dedicherà per circa un anno a un grande progetto, ovvero la traduzione in lingua tedesca del Vangelo. Nel frattempo Carlo V emana l'editto di Worms, con cui in pratica vorrebbe obbligare i tedeschi, diciamo i cittadini dell'impero, a rifiutare le tesi di Lutero, che vengono sostanzialmente rese clandestine, rese fuori legge. Ecco, proprio questo momento storico, la diada di Worms e il conseguente ditto, segnano in realtà la spaccatura, che dall'in poi diventerà insanabile, all'interno dell'impero di Germania. Ora, soffermiamoci un momento sui motivi per cui effettivamente si crea questa frattura, sui motivi per cui Lutero raccoglie così tanta attenzione, così tanto seguito. Ci sono varie cause in realtà per cui effettivamente questa protesta di Lutero si trasforma in una vera e propria rivoluzione religiosa, appunto la riforma protestante, quella che in seguito sarà definita riforma protestante, e senz'altro le ragioni di base sono motivazioni religiose legate al dissenso che si percepiva nei confronti della Chiesa di Roma, al distacco sempre più profondo fra l'alto clero cristiano e molti fedeli. Insomma, questo è un discorso molto ampio, però diciamo che si riassume in questo malessere di tanti fedeli, di tanti cristiani nei confronti di una Chiesa che avvertivano come sempre più lontana e sempre più corrotta. Ci sono però anche altre ragioni, in particolare ragioni politiche, ovvero Lutero avrà soprattutto, innanzitutto, l'appoggio di principi, del principe di Sassonia e di altri nobili tedeschi, di altri nobili dell'impero di Germania, che in parte sicuramente, probabilmente, condividevano comunque le sue posizioni, il suo dissenso verso la Chiesa, ma ad altri punti di vista avevano, come dire, degli interessi anche personali, degli interessi politici nell'appoggiare Lutero. Perché? In pratica perché molti principi vedono in questa riforma di Lutero l'occasione per distaccarsi dagli ecclesiastici e, soprattutto, per eliminare la loro ingombrante presenza sui propri territori. Mi spiego meglio. L'impero di Germania non era un regno unitario, uno stato unitario, ma era appunto un insieme di, diciamo, piccoli regni principati che altro, quindi governati da questi nobili, da questi principi, da questi piccoli sovrani, che avevano una forte autorità sul loro territorio, ma condividevano questa autorità con la presenza di cardinali, descovi, abbati, che non erano solo figure religiose, ma erano anche e soprattutto figure di spicco a livello politico, con una riscossione di tasse, di rendite, quindi avevano un ruolo politico ed economico molto importante all'interno di questi principati, all'interno dei vari territori dell'impero di Germania. E, in qualche modo, separarsi dalla Chiesa di Roma, disconoscerne l'autorità, significava per questi principi togliersi di mezzo questi ecclesiastici molto ingombranti e, quindi, consolidare i propri interessi e il proprio potere, sia a livello politico, sia a livello economico, di riscossione delle tasse, delle rendite, eccetera. Ecco, se i principi tedeschi, alcuni principi tedeschi, avevano degli interessi anche personali nel dare appoggio a Lutero e, quindi, emanciparsi sia dalla Chiesa di Roma, ma anche un po' dalla figura dell'imperatore. Dall'altra parte c'erano grandi masse di contadini che, in parte, nel messaggio di Lutero, nella sua predicazione, vedono comunque una critica a un sistema di disuguaglianza sociale e, in qualche modo, quindi le idee di Lutero si mescolano a quel generale malessere sociale che contraddistingueva moltissimi contadini dell'impero di Germania. Infatti, questo è un periodo molto turbolento per l'impero, come avrete capito, e, in coincidenza con la diffusione delle idee di Lutero, iniziano una serie di sommosse contadine che poi, appunto, prenderanno il nome di vera e propria guerra dei contadini di Germania. Ora, i contadini non è che si sollevano e fanno questa sorta di tentata rivoluzione per Lutero o per motivi religiosi. Però, in qualche modo, questa protesta, questa forma di dissenso espressa da Lutero intercetta una sensibilità di una parte della società tedesca che, in quel periodo, appunto, reclamava migliori condizioni di vita, una maggiore giustizia, una maggiore equità. Quindi, fra il 24 e il 25, la Germania è scossa da queste ribellioni dei contadini che assumono dimensioni sempre più ampie, e qui ci sarà una scelta molto controversa di Lutero, che disconoscerà del tutto, in pratica, queste sommosse. Per non perdere l'appoggio dei principi, preoccupato del fatto che queste sommosse poi effettivamente creassero dei problemi a quei principi che lo appoggiavano, Lutero infatti condannò aspramente qualunque forma di rivolta e di volontà di cambiamento a livello sociale. Lutero infatti pronuncerà parole durissime contro i contadini, in un documento li definirà dei cani rabbiosi che meritavano di essere uccisi, e in effetti, purtroppo, queste rivolte contadine si concluderanno con un bagno di sangue. Decine e decine di migliaia di contadini verranno uccisi, massacrati, dalle truppe dei principi tedeschi che volevano ripristinare un controllo di ferro sui propri territori. Questi principi sfruttano anche questo periodo per imporre effettivamente le idee di Lutero sui feudi, sui principati che li vedevano come governanti, anche perché in questo periodo l'imperatore Carlo V era impegnato in tutt'altro, stava intraprendendo una guerra contro Francesco I, re di Francia, scese proprio in Italia, nel territorio italiano per combattere questa guerra, il periodo del sacco di Roma, e ecco quindi in questo momento molto drammatico, molto bellicoso per la storia europea, in effetti le idee di Lutero riescono ad attecchire e a imporsi in tante parti di questo impero di Germania, e Carlo V a un certo punto deve quasi alzare le mani e non riesce effettivamente ad estirpare queste nuove idee, questo futuro protestantesimo che ormai si era diffuso a macchia d'olio quasi sui territori imperiali. Cercherà comunque di porre un freno a questa diffusione, ribadirà quanto già pubblicato con l'editto di Worms, quindi questa condanna ferma di Lutero, ma troverà comunque la forte opposizione da parte di molti principi tedeschi. È proprio per questo motivo che alla fine degli anni venti, tra la fine degli anni venti e l'inizio degli anni trenta, questi principi che appoggiavano Lutero vennero detti protestanti. Da qui la religione, diciamo il ramo del cristianesimo che si sviluppa con Lutero, infatti ha preso il nome di protestantesimo, di cristianesimo protestante. Le guerre di religione non finiranno qui, ma al contrario continuerà per diverso tempo il braccio di ferro fra Carlo V e questi principi protestanti, che formeranno nel 1531 la Lega di Smalcalda, ovvero proprio un'alleanza militare che li avrebbe visti contrapposti invece al cattolicissimo Carlo V e alle forze cattoliche che invece costituivano l'altra parte dell'impero di Germania.